Ancora buon pomeriggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio, traffico regolare su strade e autostrade della nostra regione al momento. In A1 tra Chiusi e Valdichiana ha segnalato un veicolo fermo in direzione Firenze, altro veicolo in avaria in direzione Bologna tra Badia e il Bivio A1 variante di Valico. Sulla Firenze e Pisa Livorno vengono segnalati pedoni tra Ponte dell'Este e Montopoli-Valdarno verso Firenze. Ricordo in A1 per lavori di pavimentazione e domani 23 ottobre, ora 22.6, sarà chiusa l'uscita di Firenze Sud provenendo da entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze in Pruneta. Non ci sono altri aggiornamenti al momento. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A dopo. Grazie a tutti.